Un applauso ai Gini e alla loro teneretà potrebbe essere l'ultimo concerto Il Locarno, fategli sentire il calore, lasciate un bel ricordo a questi giovani L'anno prossimo è il bartender Comunque dopo diamo il numero del Vini e se volete lo potete chiamare come il prossimo della prossima canzone Si è a posto Nini, sistemato per la vita Non c'è nessuno